Da entro e non oltre un anno, a dentro e non oltre due anni. E' polemica sull'emendamento sostitutivo approvato dal Consiglio regionale durante l'approvazione del bilancio di previsione 2016 e che porta alla firma congiunta del capogruppo del PD Michele Mazzarano in Regione Puglia e del Presidente della Commissione Ambiente Filippo Caracciolo attraverso il quale viene prorogato di un ulteriore anno, cioè ad aprile 2017 il termine per gli addeppimenti previsti dalla legge sulle emissioni o d'origine. Per il Movimento 5 Stelle le aziende avevano già avuto il tempo necessario per adeguarsi alla normativa ma, stando a quanto scritto in un comunicato, sarebbe stato sufficiente l'ennesima mancia della maggioranza in Consiglio regionale per prorogare ancora i termini. Il Movimento 5 Stelle, ricordano i pentastellati, facendosi portavoce delle richieste dei cittadini pugliesi la cui salute non viene in alcun modo salvaguardata dalla maggioranza se non a parole ha chiesto vanamente il ritiro al consigliere primo firmatario Caracciolo ritenendolo protagonista di un comportamento politico quantomeno schizofrenico nella stessa seduta consigliare, proseguono, aveva infatti chiesto ed ottenuto un finanziamento di ben 100.000 euro per il monitoraggio della qualità derraria nella sola città di Barletta. Al Movimento 5 Stelle risponde Mazzarano, l'emendamento alla legge di bilancio sulle missioni o d'origine spiega il capogruppo del PD, vincola tempi certi, non più prorogabili l'applicazione della norma per le autorizzazioni ambientali. Nessun favore alle aziende, ma regole e tempi certi per contrastare l'odioso fenomeno della puzza. Reazione avversa anche quella della Will Puglia, siamo all'apice dell'incoerenza la Regione Puglia predica bene la tutela dell'ambiente e della salute, ma razzola male. Sono le parole di Aldo Pugliese, segretario regionale della Will Puglia, in seguito alla proroga concessa dal Consiglio regionale a sansifici, discariche, raffinerie e depuratori presenti sul territorio, al fine di mettersi in regola con la legge regionale sulle missioni o d'origine. Anche l'Egambiente si scaglia contro, è inaccettabile che il Consiglio regionale nell'ultima seduta abbia prorogato non solo l'ecotassa, ma anche gli addempimenti previsti dalla legge sulle missioni o d'origine. Si consideri che le molestie olfattive, come sottolineato dall'ARPA Puglia, rappresentano una delle più frequenti cause di proteste dei cittadini. A tal proposito, conclude l'Egambiente, non possiamo non condividere le preoccupazioni manifestate dal direttore generale dell'ARPA Puglia.